La curva Furlan lo ha chiarito con un comunicato, nessun rapporto con la nuova società guidata da Favarato. Il centro coordinamento Triestina Club per voce del presidente Sergio Marassi pensa ancora alla possibilità di creazione di una nuova squadra parallela all'Unione Triestina 2012, ovvero di una società a cui consegnare il marchio Triestina sulla scorta di quel convegno e di quell'idea lanciata da Paolo Condò nel appuntamento organizzato anche dal senatore russo. Il sindaco Cosolini che ha seguito le evoluzioni della vicenda fa questo commesso. Guardi i tifosi sono amareggiati, le delusioni sono state tante, sono state troppe nel corso di questi anni e quindi io ribadisco abbiamo bisogno di progetti che siano credibili, seri e che ricostruiscano conseguentemente quella fiducia indispensabile tra la città in generale, la città sportiva e la società. Senza queste condizioni non si va da nessuna parte. Domani intanto si ritorna in campo, sette giocatori ufficialmente in rosa, il ritorno di Piscopo, gli Juniors, con la speranza di vedere più chiaramente il futuro della Triestina, almeno di questa Triestina, delle prossime settimane, magari con un incontro chiarificatore con Favarato per capire effettivamente la bontà o meno del progetto.